Ciao, mi chiamo Francesco. Ciao, Alessandra. Mi chiamo Martina. La mia passione è il canottaggio. Il canottaggio. La fotografia. Mi alleno un'ora e mezza al giorno. Ho iniziato quasi per caso. Al mare io ho un kayak. Credendo di continuare la mia passione anche per il resto dell'anno e non solo in estate, mi sono iscritta a questo corso, poi ho scoperto un mondo diverso. Quando vado in giro porto con me sempre la macchietta fotografica per fotografare qualsiasi cosa che noto in particolare. Io sono principalmente concentrata sul soggetto che fotografo. È il soggetto più strano che ho fotografato. Ho fotografato due olivi che si intrucciavano e sembravano due persone che stavano appunto abbracciando. In questo sport bisogna avere molta concentrazione. E molto grazie. Ma mamma mi ha chiesto se potevo mettere i pattini. Io avevo quattro anni, li ho messi e dopo non li ho più tolti. Quando perdi le gare non ti devi demoralizzare. Può succedere che vai bene a una, poi quella dopo vai malissimo. Bisogna metterci di tantissimo impegno. Non devi mollare, insomma. Se non ci metti impegno, dopo non riesci a fare le cose che vuoi fare. Non ho dei tempi precisi. Quando capita, ricordate, ho stop e inizio a fotografare. Quando riguardo le foto arrivo i momenti che ho vissuto mentre scattavo la fotografia. La cosa più importante del canottaggio è vedere questa barca che sfreccia, che va veloce. E' tutto grazie all'aremata in più che hai fatto il giorno prima. Quando sono in pista mi sento un po' libera. Faticoso, ma divertente. Anche tu puoi esprimere la tua passione. Vai sul sito www.disneychannel.it Iscrivici che cosa ti fa appassionare. Express yourself. Express your passion. www.disneychannel.it